Eh, Garage 65, benissimo, tutti sul palco. A chi lascio il microfono per presentare la vostra associazione? Chi è che parla? Allora, presentateci questa bellissima moto, è l'amico che ci presentate a sorpresa. Va bene, allora questa moto è stata realizzata completamente a Viareggio, è una moto che è stata costruita per... Prego, così qua ci vedono da tutta la piazza. È stata costruita, come si diceva, a Viareggio, è una moto interamente realizzata in alluminio, monta una ruota davanti da 26 pollici, che per il mercato italiano è abbastanza una novità. È stata curata nel design da un amico, con uno studio di design, e poi è stata praticamente concepita per il showbiker. Però, come si può vedere, si può anche andare a giro, e quindi per noi è un motivo di vostra situazione. Passo le parole a Bandoni. Che invece ci racconta qualcosa sulle tarte rivelente, proprio, come gruppo. Buongiorno, innanzitutto. Come gruppo noi siamo nati in ricordo di due amici, che sono suceduti nella strage ferroviaria di Viareggio. Ci siamo dedicati al volontariato, abbiamo abbandonato un po' quello che era il nostro essere, i motociclisti, cioè... E ci siamo dedicati al volontariato, aiutando diverse persone, facendo diverse cose insieme anche ai matri di Versilia. Cos'altro da dire? Abbiamo portato qui i nostri amici del Garage 65 come costruttori. Due parole lo faccio dire anche al vicepresidente dell'associazione Tartarughe Lenti. Perché voi siete un po' timidi, ma io so che voi di sociale ne fate tanto. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Non abbiamo i mezzi economici, però la presenza, cerchiamo di essere vicini a chi ha bisogno. E facciamo delle cose sempre sociali, così, con l'amicizia. Cerchiamo di farlo con lo spirito che avrebbero avuto Pulce Scargurato, che sono i nostri amici che non ci sono più. E lì portiamo avanti questo pensiero. Ora abbiamo diversi altri eventi da fare. Abbiamo un rombo di Natale per il 15 di dicembre in passeggiata a Viareggio. Faremo poi qualcosa di carino, portiamo i regali come se fosse il Babbo Natale in moto che faceva lo scarburato. Portiamo i regali ai bambini del Desortis. E poi altre cose eventuali che vengono, siamo disponibili così, a aiutare tutti. È stato un piacere avervi qui a Futuriamo. Un bel applauso alle Tartarughe Lenti. Se voi volete lasciare le moto, vi hanno trovato uno spazio? Sì. Vai. Adesso spostiamo la moto e sentiamo andare via con il rombo del motore, dico. No? Ah, ok. Grazie.